Tornate a parlare di rimpasto di giunta, a gennaio ci sarà? Questo è un problema che riguarderà il rapporto tra le forze della coalizione e la maggioranza e il presidente Crocetta. Il presidente Crocetta innanzitutto, noi fino alle primarie, all'approvazione di bilancio finanziaria, staremo in silenzio, come giusto. Stiamo lavorando e stiamo lavorando sodo, ieri sera l'approvazione in commissione bilancio del disegno di legge per il pagamento dei debiti alle imprese, porteremo senza che gravi di un solo centesimo in più sulle tasche dei siciliani un miliardo di euro per pagare debiti pregressi alle imprese. Credo che si stia facendo un buon lavoro, quello che il dovere della politica si sta realizzando, si parlerà di rafforzamento politico e la giunta quando sarà il momento. Rimpasto è una brutta parola, io sono d'accordo col presidente Crocetta. Ma bilancio finanziario che arriveranno quando? Con un altro esercizio provvisorio? Assolutamente no. Oggi credo, proprio in questa giornata, il governo regionale approverà i disegni di legge di bilancio e finanziaria e già dalla prossima settimana io credo che si potrà cominciare nelle commissioni di merito e poi in commissione bilancio a trattare di questo tema importante. Credo che con buon senso e con tanto lavoro entro la fine dell'anno si potrà dare davvero ai siciliani uno strumento importante che mette ulteriormente in sicurezza i conti della regione che non dimentichiamo che qualche anno fa sono stati davvero in grande difficoltà.